Giugno nel segno di San Vincenzo Romano. Il parroco della Basilica Pontificia di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo, ripercorre ai microfoni di TV City una serie di date significative della vita e della missione pastorale del parroco santo che nacque a Torre del Greco il 3 giugno del 1751 in una famiglia umile e molto cattolica. Il 4 fu battezzato il 10 giugno del 1775 ordinato sacerdote nella chiesa di Santa Restituta a Napoli. L'11 celebrò la prima messa. Giugno è un mese particolarmente ricco di eventi riguardando proprio la vita e anche le opere del nostro santo parroco perché Vincenzo Romano nasce il 3 giugno 1751 nella casetta di famiglia a via Piscopia, attualmente il numero 13. Voglio sperare che tutti quelli che ci seguono siano almeno passati qualche volta per la casa di San Vincenzo. Io lo ritengo lì il santuario della famiglia perché nella casa di via Piscopia lui è vissuto in famiglia come prete, lì è cresciuto, è stato educato e ha chiuso anche i suoi giorni terreni. Il giorno dopo, il 4 giugno 1751, fu portato al battesimo, al battistero della vecchia chiesa di Santa Croce, quella che poi fu distrutta nell'eruzione del 1794, quindi non è questo battistero che abbiamo attualmente in Basilica, ma fu battezzato nella parrocchia, quella lì costruita nel 1500, di cui è rimasto in piedi il solo campanile. 10 giugno 1775 viene ordinato sacerdote nella Basilica di Santa Restituta in Napoli. Questa basilica fu costruita da Costantino a Napoli. Il giorno dopo, festa domenica della Santissima Trinità, Vincenzo Romano celebra la prima messa nella parrocchia di Santa Croce, sempre quella lì del 500 e lì forse molti di voi conoscono quell'episodio. Mentre il giovane sacerdote Vincenzo Romano si avvia all'altare per celebrare la prima messa, in quel momento entra nella parrocchia Teresa Frulio, questa monaca di casa. Teresa Frulio porta la sua testimonianza, che noi possiamo leggere in tutti i suoi particolari, nei processi apostolici. Dice Teresa Frulio entrai in chiesa il momento nel quale lui usciva dalla sagrestia per andare a celebrare la prima messa. E dice la chiesa era tutto uno splendore, ma lo splendore non veniva dall'esterno, dalle candele, lo splendore veniva dalla sua persona. Io non vidi più nulla, vedevo solo lui, le pareti della chiesa erano tutte brillante, tutte luce e sentii questa voce, non so se l'ho sentita dentro di me e fuori di me, come un tuono che diceva non c'è prete più santo di questo che ora è uscito a dir messa. Altra data importante è quella del 15 giugno del 1794, quando si trovò a fronteggiare l'emergenza della devastante eruzione del Vesuvio. E poi del giugno, ricordiamo ancora il 15 giugno 1794, l'eruzione del Vesuvio che si mangiò parte della città, distrusse la parrocchia del Cinquecento, lasciò in piedi i due terzi del campanile, Ferdinando IV di Borbone voleva portare i torresi altrove. Viene fuori Vincenzo Romano, un giovane sacerdote con la sua forza profetica e disse al re no, è rimasto in piedi il campanile, accanto al campanile costruiremo la chiesa, la nostra parrocchia e intorno alla chiesa la città. Vincenzo Romano si è guadagnato sul campo il titolo di Lu Prevet Faticatore e la parrocchia che è proprio in mezzo alle case, perché se vedete dall'alto le case sono addossate alla parrocchia e io dico c'è anche un motivo teologico, Dio che ha posto la sua tenda in mezzo al suo popolo, la casa di Dio tra la casa del suo popolo, tra le case della gente. Mese di giugno, mese di San Vincenzo Romano, domenica celebreremo anche la festa del Corpus Domini. Tutti noi conosciamo l'amore, il fervore di Vincenzo Romano per l'Eucarestia. In una delle sue prediche lui ebbe a dire la messa è il tesoro infinito della vita cristiana e lui faceva una processione non solo nel Corpus Domini ma faceva anche un'altra nell'ottava del Corpus Domini e in questo mese noi stiamo utilizzando proprio per la preghiera, per l'adorazione e per la benedizione serale proprio il suo ostensorio e per me è sempre un'emozione. Concludo con le parole del nostro santo parroco, diceva San Vincenzo, vorrei avere infiniti cuori che tutti ardessero del santo amore. Gesù è tutto mio e io sono tutto di Gesù. Mi basta solo Gesù, voglio amare solo Gesù e niente più voglio. Amen.